Ciao Francesco, benvenuto su spettacolo. Ti abbiamo lasciato a Sanremo con un album che era in lavorazione, l'altra metà ci siamo, questo album sta per uscire il 19 aprile. Nel presentarlo lo paragoni a una ripartenza, perché? Sì, più che una ripartenza mi piace pensarlo come a una sorta di spartiacque. Io voglio credere, mi piace pensare, come ho detto, che dell'altra metà si parli come qualcosa che c'è stato prima e ci sarà dopo, perché è un grande punto d'arrivo, come dici tu, è un grande punto di partenza, perché è frutto di una ricerca lunga, di una voglia di cambiamento che avevo sentito nell'aria sei anni fa, cinque anni fa, quando ho cominciato a lavorare a tempo reale. Mi ero accorto che stava cambiando la musica, non solo la fruizione delle canzoni, ma anche proprio le canzoni erano diverse, quindi c'era una scrittura differente, un canto soprattutto, molto diverso da quello che era, come dire, il territorio che frequentavo all'epoca. E quindi ho sentito l'urgenza di un cambiamento proprio di stile, di modo. E quindi lo step successivo è stato subito quello di cercare un linguaggio che forse è mio, personale, quindi che fosse rispettoso di tutto quello che sono, che ho fatto, che ho rappresentato in questi anni lunghi, 35, di lavoro, di canzoni, di scrittura, ma che in qualche modo mi tenesse connesso in maniera adeguata a quello che è il presente. E quindi questo linguaggio, questo modo, secondo me, ha trovato finalmente la giusta espressione nell'altra metà. Quindi che è un disco molto a fuoco, molto preciso, che ha un carattere molto univoco, unitario, oppure avendo dei colori molto diversi. Di base c'è un canto, una scrittura, che sono miei, finalmente, che mi rappresentano pienamente, che sono rispettosi dell'età che ho, quindi della maturità che un uomo di 50 anni deve avere, ma con una caratteristica tutta nuova, no? Questo linguaggio, che è un linguaggio che nelle mie intenzioni doveva essere fruibile anche dai miei figli, quindi da dei ragazzi di 15, di 15 anni. A proposito dei tuoi figli, l'aggancio me lo dai tu, che musica ascoltano i tuoi figli? Perché a Sanremo hai detto che tua figlia ti fa l'ultimo. Certo ti fa l'ultimo, per questo poi io sono uscito con l'odore del caffè scritta con lui. Quindi lei è contentissima. Lei è felicissima. Sì, i suoi ascolti sono questi qua, i giovani cantautori, queste cose, che poi sono quelle che mi hanno fatto drizzare le orecchie qualche anno fa. Mio figlio, invece, più su altre cose, Salmo, piuttosto che sono molto diversi. Lui è un po' più piccolino, ha 13 anni. Però loro sono le orecchie sul futuro della musica che in realtà io ho bisogno anche di ascoltare per capire dove si sta andando. Loro sono i miei occhi, no? Su quel panorama, su quell'orizzonte. Parlando proprio dell'odore del caffè, dici che la vita è un posto per tutti i rimpianti. Qual è il tuo rimpianto più grande se ne hai uno? Ne ho tanti. Ti direi, guarda, il rimpianto più grande che ho è quello di non aver potuto, per esempio, parlando dell'odore del caffè, di non aver fatto conoscere mia madre e i miei figli, per esempio, la nonna, oppure di mio padre che adesso purtroppo è malato, quindi non è più la persona che vorrei potesse in qualche modo seguirli da nonno. Sono questi gli rimpianti, sono legati soprattutto alla mia vita, quindi non ho rimpianti dal punto di vista, agli affetti, non ho rimpianti lavorativi. Ogni sbaglio, ogni tentativo che ho fatto, ogni cosa, ogni percorso che ho appunto percorso, ogni strada che ho percorso, la rifarei anche se poi magari ho fatto degli errori, giustamente, e anche ogni sbaglio farei. Perché dentro ogni sbaglio commesso c'è sempre nascosto del bene? Perché c'è sempre, soprattutto quando si parla di affetto, d'amore, lì si parla di amore. Quando si sbaglia in amore, se di base appunto c'è questo sentimento, è difficile che si faccia per fare del male, con cattiveria. Quindi c'è sempre nascosto del bene che tu in qualche modo volevi, hai pensato, quindi che poi non è riuscito a tirare, a venire fuori o che comunque invece magari in maniera inaspettata ha creato e ha fatto dolore. Nell'amore del mostro citi un po' questo nostro rapporto convulsivo con i social. Sì, quello l'ho scritto proprio anche per i miei ragazzi. Sì, perché quella lì è una distorsione abbastanza comune vedo in quella generazione. Quindi in realtà era un po' come dire attenzione, ci sono appunto dei momenti in cui bisogna anche... Il problema di questa generazione credo che sia proprio quello che loro non sanno che si può vivere anche senza i social. Nel senso che sono cresciuti e nati con quello. Tu come vivi il rapporto con i social? Io mi diverte molto adesso. Ho trovato che sia un modo, anche lì, usato sempre con coerenza, no? Anche con l'occhio, forse anche con la testa di uno della mia età. Però è un mezzo che mi tiene legato in maniera anche molto divertente con i miei fans, con la mia gente, con il mio popolo. Quindi in realtà mi piace molto. Però io, quello che dico sempre ai miei figli, che ogni tanto si può anche staccare e parlare con una persona in maniera reale. E quindi un po' questo è il mostro che ci dici? Il mostro, l'amore del mostro in realtà è... Sì, è anche questo. Comunque è quel mostro, quell'amore che non vuoi mostrare in realtà. È quell'amore perché ti spaventa, perché ne hai paura, perché ti affatica, oppure perché ti appassiona troppo, perché ti fa paura, insomma. Quell'amore che però, quando trovi la persona, la situazione, il momento giusto, improvvisamente diventa la cosa più naturale da condividere. Per citare un altro brano, che è lo sbaglio perfetto, in quale ricordo ti specchi maggiormente quello che ti fa stare bene? Ma io non ho... cioè nel senso non sono ricordi, è una realtà. Io quando voglio star bene sto con i miei figli, nel senso che sono loro che mi danno quella concretezza, quella sensazione anche di pace, nonostante sia un casino ovviamente la vita con loro. Però mi tengono sveglio, mi tengono vivo, mi tengono... e poi mi piace guardarli, mi piace guardarli, osservarli, mi piace vederli vivere, crescere. E mi piace anche farmi guardare, mi piace sapere che col mio esempio posso in qualche modo dare una mano loro a diventare delle persone, degli uomini magari migliori. L'hai detto tu, è un album che hai cercato di rendere contemporaneo il più possibile e ti sei avvalso anche di giovani autori, oltre ad Ultimo. Sì, Ultimo, Gazelle, un altro... Scorrendo i crediti se ne vedono tantissimi. Sì, Gazelle, ma poi tutta una serie di giovani coautori, musicisti, insomma, oltre agli artisti con quelli che ho collaborato. Come li hai scelti? Ti ho chiesto di collaborare con loro, in realtà alcune cose sono venute fuori in maniera abbastanza naturale. Con alcuni avevo già collaborato in altri dischi precedentemente. C'è Zampaione. Zampaione, sì. Fighissimo. Abbiamo scritto un paio di cose per questo disco, le abbiamo fatte qua, su questo divano, in questo studio. Quindi in realtà è un lavoro lungo, non è una cosa che si è... Quando a Sanremo ne abbiamo parlato, il disco era ancora in lavorazione, ma era un disco sul quale sto lavorando già da almeno un paio d'anni. Quindi durante il tour con il trio stavo lavorando ancora questi pezzi, anzi quel tour mi ha dato la possibilità di andare avanti. Proprio citando il trio, tu Neck e Max Pezzale, è una parentesi che consideri chiusa o c'è una possibilità? Guarda, io quel tour lo rifare domani nel senso che ci siamo divertiti tantissimo. Ho portato a casa veramente un'esperienza, soprattutto a livello umano, meravigliosa. Ci sentiamo ancora sempre, ci cerchiamo, ci frequentiamo. In questo momento ovviamente siamo tutti concentrati ognuno sul proprio percorso artistico. Però questo nulla vieta che prima o poi ci si possa ritrovare, perché è stata un'esperienza così brillante, così bella. Ma anche artisticamente, ho capito molte cose da quel tour. È stato bello vedere come questo affetto tra noi veniva rimbalzato sul pubblico, tra i vari pubblici. Insomma è stato un momento molto felice, una bella festa. Riparte tra un po' The Voice che ti ha visto l'anno scorso in veste di giudice, sei stato spesso anche ad amici in giuria. Quindi il tuo rapporto con i talent è positivo, li vedi come una possibilità? Beh sì, adesso sì. Quello che dico sempre è che al di là dell'inizio, quando ancora non avevo capito da dinosauro quello che stava succedendo, però credo che se avessi adesso l'età di mio figlio fare carte false per andare a fare un talent. Parteciperesti a un casting per un talent. Assolutamente sì. Chiudiamo con il tuo tour che parte subito da un altro. In realtà ci sono queste due dati. Esatto. Ci sono queste due anteprime, l'Arena di Verona il 27, un posto incredibile, l'Arena di Verona il 27 maggio e il 13 di giugno a Taormina. E sono due posti meravigliosi di questo paese meraviglioso. Quindi sto preparando una scaletta, vorrei riuscire a portare, anzi voglio portare tutta l'altra metà in tour. Quindi sto pensando a come spalmarla all'interno dello spettacolo che ovviamente sarà fatto anche di altre canzoni che il pubblico vuole sentire, vuole ascoltare. Sto già coordinandomi con la mia band finalmente per tornare a fare un sacco di concerti che poi cominceremo a fare da ottobre in poi. Quindi questo è solo un anteprima. Questo è solo un anteprima e il tour vero e proprio parte a ottobre. Perfetto. Ti ringrazio. Grazie a te. Ci saluti amici di spettacolo. Un saluto a tutti gli amici di spettacolo. Ciao.